Nella cornice della Pinacoteca San Domenico a Fano si è concluso oggi pomeriggio il premio Ruggeri, il concorso dedicato agli attori under 30, che si sono cimentati nelle interpretazioni pirandelliane. Dopo una prima selezione, 12 ragazzi hanno partecipato ad una masterclass, cioè una lezione, condotta da docenti e attori professionisti. Poi si sono esibiti ieri davanti a un foto pubblico e alla giuria, composta da Carlo Simoni, Arianna Ninchi, Matteo Giardini, Francesco Giannangeli e Massimo Puliani. Presidente della commissione, il preside Samuele Giombi e segretaria, la responsabile delle relazioni esterne della BCC, Monica Pucillo. Mentre il pubblico, tramite una scheda, ha espresso maggiori preferenze per Emanuel Festuccia, di Senigallia, la giuria tecnica ha deciso di premiare, ex equo, ben tre ragazzi. Luis Marreiro, 29 anni, residente a Tolentino ma originario del Portogallo, è stato scelto per la sua interpretazione intensa e di spessore, frutto, hanno detto, di una profonda consapevolezza del personaggio. Luca Petrelli, 15enne di Fano, è stato premiato per la sua presenza scenica e per l'interpretazione contemporanea che ne rivelano capacità in divenire, mentre Davide Simonetti, 29enne di San Costanzo, per la sua interpretazione espressiva e anticamente moderna. Davide, quale monologo avete presentato? Abbiamo presentato tre estratti dall'Uomo dal fior in bocca, in realtà io ne ho scelto uno precedente alla parte che hanno scelto loro e Luis in particolare mi pare che l'abbia rielaborato un po', quindi non era aderente al testo che ha portato poi invece Luca. Quindi erano tre pezzi diversi, in sostanza, dalla stessa opera, un atto unico. Come è stata questa esperienza? Beh, è molto divertente se posso dirlo e logicamente mi ha formato molto per quanto riguarda non solo il teatro, ma anche ho trovato degli amici, delle persone molto simpatiche con cui sono riuscito a socializzare molto bene, che sono anche uno a destra e uno a sinistra e quindi credo che sia stata davvero un'esperienza unica nel suo genere, davvero molto gradita. Quando è nata questa passione e quali sono i progetti? Allora, questa passione è nata quando avevo dieci anni, progetti tanti e adesso vediamo come portarli avanti soprattutto. Come porta il vento. Esatto, in bocca al lupo ragazzi. Viva il lupo, grazie. Al termine della premiazione è stato consegnato un attestato di partecipazione a tutti i ragazzi ai quali sono andati i complimenti per il lavoro svolto. Il direttore Massimo Puliani poi ha annunciato che il premio Ruggeri tornerà anche il prossimo anno per la seconda edizione. La forza di questa iniziativa è che abbiamo costituito un'attività che permetta ai vincitori di essere protagonisti, non di avere un premio e basta. Questa attività si svolge appunto nella casa Ruggeri, la casa natale, qui nel corso Matteotti, dove i tre vincitori avranno un contratto di lavoro per fare sei rappresentazioni in due giornate. Il pubblico che verrà a queste rappresentazioni potrà vedere proprio i tre monologhi nelle stanze Ruggeri e oltre a queste rappresentazioni ci saranno anche le rappresentazioni di altre due performance di studenti del liceo Nolfi a Polloni che praticamente potranno dare la possibilità al pubblico di frequentare, vivere le emozioni, le suggestioni della casa natale di Ruggeri che alla fine proporrà addirittura la sua voce ma non nella forma tradizionale. La voce di Ruggeri dopo un inizio che è quella della matrice originale si trasformerà in una voce con mixer musicale.